Buonasera, buonasera a tutti. Visto che mi sono arrivati dei messaggi perché volevano sentire il mio parere sulla questione Dybala, farò un video sulla questione Dybala. Dybala sembra che non rinnoverà con la Juventus, sembra. Tutti i personaggi giornalisti e personaggi YouTube che vagano nel mondo Juve hanno dato ormai le notizie come ufficiale. Dybala ha rifiutato il contratto della Juve, un contratto a 7 milioni più 3 di bonus, sembra che per quattro anni. Questo era il contratto che la Juventus gli aveva offerto e Dybala ha detto di no, perché ha detto che a ottobre gli era stato formulato un contratto di 8 e mezzo con 2 di bonus e lui, quel contratto non era stato firmato solo perché non si era trovato l'accordo perché Giorgio Antunes ancora non era riconosciuto come procuratore. I tempi si sono allungati, oltre ai tempi dopo si sono allungati tante altre cose. Secondo me da parte della Juve sono state fatte valutazioni sulla tenuta fisica di Paolo Dybala. La Juve ha ritenuto congruo riformulare una nuova offerta Dybala. Dybala se l'ha presa sul personale, diciamo, e l'ha rifiutata. Questa in sintesi sarebbe la favola che ci è stata raccontata a noi. Ragazzi, cosa dire? Io sono andato a vedere i numeri. Dybala ha fatto 29 partite, ha segnato 13 gol quest'anno, ha fatto 29 presenze e 13 gol. La Juve ha giocato fino ad oggi 42 partite tra coppe e campionato. Vuol dire che Dybala ha saltato un terzo del campionato, delle partite scusate. Io sinceramente non so cosa dirvi. Allora, da un lato sono pro Juventus, da un lato sono pro Dybala, perché sono pro Juventus? Sono pro Juventus perché dico, beh, come io faccio un calcolo, termini giochi tutti gli anni, un terzo delle partite, andate a vedere gli ultimi tre stagioni, quella con Sarri, quella con Pirlo e questa qui con Allegri, Dybala ha saltato un terzo delle partite della Juventus. Fra questi, un terzo globale delle partite che ha saltato Dybala, ha saltato tutte le partite decisive della Champions. Con questo non sto dicendo che se Dybala fosse stato bene, Dybala la Juve avrebbe vinto la Champions, assolutamente. Lasciamo stare questi discorsi stupidi da chi li vuole capire in modo stupido. Parliamo seriamente, per un attimo. Dybala due anni fa, con il Lione, tre anni fa con il Lione, gioca l'ottavo di finale d'andata, d'andata, gioca quasi tutta la partita con Ronaldo e Higuain, fa anche un gol che glielo annullano, la parità di ritorno la salta, gioca gli ultimi cinque minuti che lo mettono su poi si rompe, addirittura la Juve chiude in dieci la partita. Ok. L'anno scorso contro il Porto non ha giocato né l'andata né il ritorno, quest'anno con il Vira Real non gioca né l'andata, praticamente non ha giocato neanche il ritorno perché ha giocato l'ultimi dieci minuti. Eh signore, cosa? Una squadra pagha il suo giocatore migliore perché ci sia nelle partite che contano. Per noi tifosi conta vincere, ma per la società conta arrivare ai quarti, conta arrivare anche in una semifinale perché prende più soldi. Io posso capire la Juve che gli dica, io te ne do dieci, ne vuoi dieci? Te ne do dieci, però te ne do sette fissi e gli altri 3 li guadagni con la presenza. Poi la presenza ci saranno i gol, tutto quello che volete, non lo so, però sembra che la parte più ampia della fetta dei 3 di bonus siano dovute le presenze. Obiettivamente Dybala, ragazzi, negli ultimi tre anni gioca tre partite e poi sta fuori un mese, quando va bene. Anche quest'anno si è fermato lui nel derby. J Medical quest'anno non ha riscontrato nessuna lesione a Dybala. Non è mai stato valutato come rottura, lesione, stiramento, zero. Fermo precauzionalmente, sta fuori due mesi, un mese, un mese e mezzo. Ragazzi, guardate, precipici uno stipendio. E che stipendio? Come fai a pagare uno una cifra del genere? Questo non c'è mai. Dall'altra capisco Dybala che dica me ne avevi preferito 8 e mezzo più due, poi ti rimangi la parola. Però io voglio vedere dove andrà a giocare Dybala e a che soldi. Perché oggi ho letto, ah e poi dopo c'è una chicca per voi, farò nome e cognome e lo sputtanerò qui perché mi ha rotto i coglioni. Voglio vedere dove andrà a giocare Dybala, chiuso parentesi. Perché oggi hanno detto che andrà all'Inter per gli stessi soldi che non ha preso la Juventus. Solo che l'Inter invece di dargli 7 più 3 gli da 8 più 2 o 8 più 2 e mezzo, non ho capito. Per un anno in più. Allora, in quel momento lì, secondo me, tu andrai a finire nelle merde, come sono state chiamate merde Donna Rumma e tanti altri vari giocatori che per la stessa cifra hanno abbandonato la baracca quando mesi prima hanno dichiarato amore eterno per quei colori lì. Questo è il mio pensiero ragazzi. A me che vada via è Paolo Dybala. Dispiace. Io l'ho sempre detto, Dybala non sarà mai un fuoriclasse. Non sarà mai considerato da me un fuoriclasse. Perché non lo ha dimostrato. Ha fatto delle buone partite. Sono tre anni che le partite decisive non le segna per nessun motivo. Fa i gol contro l'Udinese, la Salernitana, la Spezia, l'Empoli, contro quelle squadre lì, nelle partite che contano. Ad esempio, Chiesa, Ronaldo negli ultimi anni, hanno fatto gol nelle partite che contavano, quelle di Champions. Poi siamo usciti, però almeno mi fai vedere che ci sei. Lui sparisce nella mano, si nasconde. Dunque, io ragazzi, questo è quel mio pensiero. Dispiace che vado via. Mi dispiace, sì. Devo essere sincero, mi dispiace. Da tifoso della Juve mi dispiace. Però capisco la società. Capisco la società. E a 29 anni, se tu sei veramente innamorato di questi colori, stai bene in questa società e adori tu i tifosi, io penso che un gesto di riconoscenza verso una società che ti ha pagato, nonostante tu abbia giocato il 65-64% delle partite degli ultimi anni, lo potessi anche avere. Visto che non vai via per una cifra talmente spropositata, ma vai via per la stessa cifra. Questo è il mio pensiero. Poi uno lo interpreta come vuole. Ragazzi, io cosa volete che vi dica? Io rimango di questa idea. Per quella cifra, se tu vai da un'altra parte per la stessa cifra, ti dimostri una merda. È il mio pensiero. Ma non dico che di bala sia diventato scarso. Vi ripeto, non sarà mai un fuoriclasse, ma l'ho già detto in altri video, fra cui l'ho accusato di non essere determinante nelle partite che contano. Non diventerà una merda come giocatore. Sarà un buon giocatore che, secondo me, che non capisco un cazzo di calcio, andrà all'Inter. Per me ha già l'accordo con Marotta. Però come uomo, visto che è stato detto ad altre persone che hanno fatto lo stesso tipo di ragionamenti, diventi un uomo di merda. Questo è il mio pensiero, ragazzi. Ognuno ha la sua opinione. Può essere condivisibile, come no. Piccola chicca. Io sono tartassato da un certo Gianluca dal pane, che non so dove sia, ma si chiama Gianluca dal pane, tifoso interista. Un grandissimo idiota. Dove vi dico quello che mi ha scritto da quando io faccio questi video, che sono neanche un anno. Di bala cosa vuole... Ah, scusate, data. Ho qui, eh. 15 ottobre 2021. Ma di bala cosa vuole pretendere 15 milioni? È meglio se il poverino si accontenta di quello che prende e ringrazia la società per i soldi che gli dà. Rimarrà per sempre un pippone. 27 di ottobre. Ah 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 ah, di bala, ancora rotto. Siete proprio dei coglionazzi voi, Juventini. Perché non lo dici mai nei tuoi video, eh? Alexino, addirittura. 26? No, 16 di dicembre. Ah ah, di bala, fai proprio ridere come giocatore. Sei proprio una vera M. Ok. Questo Gianluca dal pane oggi ha scritto tale messaggio. Mi dispiace che non sono capace di fare gli screenshot, di metterveli perché io con la tecnologia faccio cagare. Forza Marotta, corri a prendere di bala. Con noi tornerà a essere un vero campione come lo era prima. Dai Paolo, ti aspettiamo. Nuovo numero 10 dell'Inter. Fai soffrire sti gobbi di merda. Allora, povero uomo di merda, perché di merda sei te. Te hai i 64 dei tuoi parenti che ti hanno dato da mangiare, da vivere e da dormire. Povero demente. Tu non capisci, oltre a non capire un cazzo di calcio, ma non perché sei interista, perché io conosco tantissimi interisti che sono intelligenti e che sono miei amici. e con il quale ho il piacere di parlare di calcio. Sei un demente e non capisci un cazzo di calcio perché sei così nella tua vita di merda, dove ti nascondi dietro un telefono, una tastiera, dei messaggi, perché non hai neanche il coraggio di metterci la faccia. Io se vuoi, te l'ho già detto, ti do il mio numero di telefono, ci incontriamo fuori, ne parliamo. Hai capito, povero demente? Ok. Tu non capisci un cazzo di calcio perché non capisci un cazzo nella vita. E ti nascondi dietro sto telefonino qui. Scusate, ma ho perso il filo perché mi sono nervosito un attimo. Sei così, sei una povera merda cagata male da tuo babbo, a cui è andato il permesso di respirare. Quando vuoi, dove vuoi, ci incontriamo. Va bene? E facciamo due chiacchiere in assoluta tranquillità. E ti spiego tante cose sul calcio visto che non capisci niente. Perché quando scrivi una cosa, almeno sei coerente. Perché io con le mie idee sono coerente. E se per me uno è scarso con una maglia, è scarso anche quando viene la Juventus. Ok? Perché Rabiot per me era scarso nel Paris Saint Germain ed è rimasto scarso nella Juventus. Questa è la differenza tra me e te. Povera merda. E con questo ragazzi, vi saluto ciao a tutti.